E' stato notificato ieri l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Egrigento nei confronti di 58 persone che a vario titolo sono state coinvolte nell'operazione di polizia giudiziaria denominata Waterloo, quella che il mese scorso era culminata con l'emissione di otto fermi come indiziati di delitto nei confronti dei vertici societari della Girgentiacqua S.P.A. e della Idortecne S.R.L. Inchiesta che, stando alle conclusioni degli inquirenti, ha fatto emergere una serie di illeciti nella conduzione aziendale, in particolare tra le ipotesi di reato formulate dal Procuratore Capo Luigi Patronaggio, dall'Aggiunto Salvatore Vella e dai sostituti Paola Vetro, Antonella Pandolfi e Sara Varazzi, c'è anche quella che a gestire il sistema idrico sarebbe stata un'associazione a delinquere tesa a commettere delitti diversi, frode in pubbliche forniture, violazione di sigilli, furto, ricettazione, contraffazione di marchi registrati, ma anche reati tributari, societari, tra cui le false comunicazioni sociali e reati anche in materia ambientale, come la contestazione riguardante il calcolo di costi per smaltimento fognario nelle bollette. Al presidente della Girgentiacqua, Marco Campione, è stato contestato, tra l'altro, il suo presunto conflitto di interessi, considerato che ricopriva il ruolo di legale rappresentante della società che gestiva il servizio idrico integrato e contemporaneamente anche quello di gestore di fatto delle società del gruppo Campione. Sotto inchiesta sono finite anche le assunzioni presso la società Girgentiacqua, alcune delle quali, secondo la magistratura agrigentina, sono state fatte in modo clientelare il tutto in un clima di presunte protezione a più alti livelli, perfino tra i dirigenti delle forze dell'ordine in alcuni comuni agrigentini. Sotto accusa, come si ricorderà, è finito anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, che, forte del suo ruolo, avrebbe tutelato le società idriche, valutando in maniera non corretta gli elementi investigativi che indicavano una presunta infiltrazione mafiosa all'interno della Girgentiacque e non tenendo conto del parere espresso in tal senso unitariamente dalle forze dell'ordine. L'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi è accusato invece di corruzione per avere consentito da commissario straordinario e liquidatore del lato idrico l'aumento delle tariffe, in cambio, questo è quanto sostengono gli inquirenti, dell'assunzione del figlio. Ci sono poi nella lista degli indagati il presidente dell'Ars Gianfranco Micichè, il suo fiduciario al tempo della campagna elettorale per le regionali, per i contributi elettorali ricevuti da Campione, l'onorevole Scoma, attorno alle società idriche, dunque, secondo la procura di Grigento, avrebbe orbitato un sistema di favoritismi e protezioni. A giugno l'indagine aveva visto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Campione, ma anche di Pietro Arnone, presidente di Idortecne, degli altri dirigenti, Gian Domenico Ponzo, Calogero Patti, Angelo Piero Cutaia, Ginio della Volpe, Francesco Barrovecchio, Calogero Sala. Gli ultimi tre erano stati rimessi in libertà subito dei GIP, Barrovecchio e della Volpe non si trovavano in Sicilia. A decidere su di loro erano stati magistrati di Verbania e di Taranto. Agli altri, escluso Campione, erano stati concessi gli arresti domiciliari. Successivamente il riesame avrebbe poi disposto il ritorno in libertà per tutti, compreso lo stesso Campione. Gli atti adesso passano al GIP per stabilire se e eventualmente chi dovrà essere rinviato a giudizio.